Una condotta fognaria per le acque pluviali nell'area dei 78 alloggi di Via Lamari a Torre del Greco, per consentire la realizzazione dell'intervento responsabile dei servizi tecnologici dell'ente comunale, ha chiesto con una nota al Comune l'adozione di appositi dispositivi di viabilità e traffico, di cui l'ordinanza firmata in queste ore dal dirigente al nono settore di Polizia Locale e Protezione Civile Salvatore Visore, istituito il seguente dispositivo temporaneo di viabilità che prevede per il prolungamento di Via Lamaria di vieto di circolazione veicolare nel tratto di strada a servizio dei 78 alloggi di edilizia residenziale pubblica interessato dai lavori, da lunedì 8 novembre a lunedì 22 novembre. L'ordinanza istituisce inoltre il doppio senso di circolazione veicolare sempre al prolungamento di Via Lamaria nel tratto di strada a servizio dei 78 alloggi di edilizia residenziale pubblica non interessato dai lavori dall'8 al 22. Grazie a tutti!